Grazie alla redazione di Modena e benvenuti negli studi bolognesi. Allora, come sapete, le stampanti in 3D hanno un'infinità di applicazioni possibili, probabilmente se ne scopriranno tante altre in futuro. Tra le applicazioni c'è anche l'applicazione in campo medico. E' l'Istituto Rizzoli in questo senso all'avanguardia, perché proprio all'Istituto Ortopedico Rizzoli sono stati fatti i primi impianti di protesi, osse e su misura stampate in 3D, ma non mi addentro nei dettagli, perché abbiamo qua ospite il professor Davide Donati, che è direttore proprio di Oncologia Ortopedica all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Buongiorno, professore, benvenuto. Grazie dell'invito. Allora, abbiamo fatto una piccola introduzione, perché ormai le stampanti 3D le conoscono tutti, ma forse non tutti sanno che una possibile applicazione, anzi reale applicazione, c'è anche in campo medico. Certo. In campo medico, in questo caso ortopedico, al fine di sostituire delle parti osse che noi nel nostro lavoro dobbiamo asportare perché affette da un tumore. Ed essendo una chirurgia che è abbastanza impegnativa, è sempre un pochettino diversa un caso dall'altro, questo tipo di tecnologia che prevede un'attività sul paziente può essere di grande aiuto per il futuro. Ecco, per sgomberare il campo da fraintendimenti, cioè le stampanti 3D esistono. Quello che sta al medico e alla sua equip è quello di studiare prima dell'ingresso in sala operatoria qual è la porzione di osso da sostituire. Cioè c'è tutta un'analisi clinica preventiva che voi fate per limitare poi il tempo di permanenza in sala operatoria. Certo. Il lavoro di base sostanzialmente rimane lo stesso, appunto quello di pianificare l'intervento, decidere dove togliere, cosa togliere e cosa lasciare. Diciamo che questa tecnologia ci obbliga a fare le cose in maniera molto precisa prima, perché noi dobbiamo dare all'ingegnere le indicazioni per poter realizzare la protesi e quindi eseguire anche le guide di taglio che faranno sì che il taglio nell'osso sia assolutamente perfetto sul quale si inserirà in maniera altrettanto perfetta la nostra protesi. Tutto questo fa sì che molto del lavoro che prima facevamo durante l'intervento, oggi lo facciamo quasi esclusivamente prima, e quindi i tempi dell'intervento si riducono in maniera significativa. In il grosso lavoro, o comunque l'obiettivo verso quale l'ortopedia, l'ortopedia oncologica, sta puntando è soprattutto sui materiali per delle protesi. Al momento mi diceva che sono in titanio. Sì, la tecnologia ortopedica è un campo che è continuamente in movimento. I materiali che noi utilizziamo oggi sono i materiali che ci danno più affidamento da un punto di vista meccanico, ma l'obiettivo, lo scopo finale è di poter avere dei materiali che siano sia competenti da un punto di vista meccanico, ma sempre più competenti anche da un punto di vista biologico. L'ideale ovviamente è quello di replicare la natura, cosa che non so se arriveremo mai a fare, però lavoriamo in quel senso. Quindi partiamo da strutture che sono meccanicamente resistenti e ci danno affidamento, ma che iniziano ad essere anche più capaci di essere integrate sia con gli elementi cellulari che sono all'interno della zona dove noi facciamo l'intervento, ma nel futuro anche mettendo noi cellule in modo tale che cerchiamo di replicare esattamente l'organo che andiamo a togliere, quella parte di organo che andiamo a togliere. Professore, infatti stavamo vedendo adesso, mentre lei parlava proprio delle immagini, allora in questo caso vediamo proprio una protesi in titanio e prima abbiamo visto le tac di cui parlava prima, perché voi avete operato già 5-6 pazienti con... Noi abbiamo operato 5 pazienti in cui abbiamo fatto questo tipo di realizzazione nelle pelvi. L'osso pelvico è un osso particolarmente difficile da sostituire, per cui non ci sono molti casi, per cui è abbastanza, diciamo, opportuno come primo livello di sperimentazione. Abbiamo poi realizzato anche un caso nel ginocchio con una protesina molto più piccola. Prima per fare un intervento di resezione e ricostruzione, anche se sembra solo una cosa piccola, impiegavamo dalle 6 alle 8 ore, adesso abbiamo ridotto i tempi molto in maniera significativa, non solo per l'esperienza nella resezione, che rimane più o meno la stessa, ma soprattutto perché la ricostruzione ha dei tempi molto più brevi. La sua equip è composta quindi da quante persone e che ruoli hanno nella fase preparatoria di un intervento? Come in tutte le equip mediche e ortopediche all'interno di un gruppo, ci sono persone che si dedicano maggiormente ad un campo o ad un altro. Io e altre due persone ci dedichiamo prevalentemente a questo campo, che è la chirurgia pelvica. Date le necessità della chirurgia pelvica, abbiamo iniziato già da alcuni anni, lavorando anche sulla sperimentazione in laboratorio animale, abbiamo iniziato a ipotizzare questo tipo di nuovi dispositivi. Poi c'è chi si occupa prevalentemente dei bambini, chi si occupa di altri tipi di tumori e via dicendo. Certo. Insomma, abbiamo visto che le possibilità che queste stampanti 3D sono tante. Sì, la stampante 3D oggi è molto interessante per noi, perché ci permette di fare un manufatto come quello in tempi molto brevi. Tenuto conto del tempo di studio, di realizzazione, sterilizzazione, impacchettamento, oggi abbiamo dei tempi che sono sulle tre settimane. In tre settimane noi riusciamo ad avere questo prodotto. Sono tempi assolutamente compatibili con i tempi della programmazione chirurgica. La customizzazione, quindi la protesi su misura, lo dico in italiano, per l'inglese magari. La protesi su misura esisteva già, però aveva tempi molto più lunghi, perché veniva fatto in maniera diversa, per cui spesso erano tempi inadeguati alle esigenze mediche, e in più costava anche, aveva un costo molto significativo. Questo tipo di tecnologia, oltre ad essere più pratica, più breve nella realizzazione, se li inizieremo a applicare in maniera più sistematica, avverrà anche dei costi molto inferiori a quelli che avevamo prima, compatibili con le normali protesi che abbiamo. Certo. Per il paziente, giustamente come diceva lei, è sicuramente un intervento meno invasivo, però più corto, sono meno ore in sala operatoria, per cui la medicina tende sempre ad essere più vicina al paziente, a ridurre i tempi di permanenza in sala operatoria. All'interno dell'Istituto Ortopedico Rizzoli ci sono dei laboratori che stanno lavorando su più fronti per la ricerca. Rizzoli ha numerosi laboratori di ricerca che si occupano dalla biologia molecolare, alla biologia cellulare, fino alla tecnologia dei materiali, all'analisi del passo. Tutte ricerche che ovviamente sono utili nei differenti campi dell'ortopedia, e noi stessi per questo tipo di tecnologia abbiamo utilizzato per cercare di, come dicevamo prima, non solo di fare protesi in titanio, ma stiamo già studiando protesi che combinano più materiali, che siano sempre più simili a quello che la natura ha fatto. Ecco, mi incuriosisce, visto che ho qua lei, che è il direttore di oncologia ortopedica, Per un medico, queste evoluzioni negli anni, questi nuovi strumenti che a un certo punto arrivano, che cosa comportano? Chiaro che come in ogni professione ognuno continua l'aggiornamento, giustamente. Per voi, che insomma avete tempi molto stretti per agire tanti pazienti, che cosa vuol dire rapportarsi anche con nuove tecnologie e capire quali sono le potenzialità? Innanzitutto, per chi studia questo tipo di innovazione, ha la soddisfazione di poter dire stiamo facendo sempre il meglio per i nostri pazienti. In generale, è un po' come trovarsi a correre i 100 metri con gli scarponi da montagna, invece con un paio di scarpettine dell'ultima generazione. Cioè, ti senti sempre più in grado di fare cose sempre più importanti. chiudiamo questo eufemismo nei confronti del paziente. Cioè, osi di più se hai strumenti sempre più adeguati. E lei come lo vede il futuro? Nel senso, visto che questa evoluzione è continua e costante, dal suo punto privilegiato di osservazione, quali saranno i passi futuri e i tempi, secondo lei? Il futuro, se parliamo di protesica, il futuro, io credo che questa tecnologia verrà sempre più applicata, perché la protesi su misura offre alcuni vantaggi che oggi non sono ancora all'ordine del giorno e non sono neanche più di tanto ipotizzati, ma diventeranno sempre di più possibili, come dicevo prima, per motivi di tempi economici e renderanno il paziente sempre più contento di quello che noi mettiamo. Le faccio un esempio molto semplice. Oggi la protesi di ginocchio standard che si fa nel paziente artrosico che ha un ginocchio infiammato e inizia ad alterarsi, che si fa normalmente tra i 55 e i 65 anni, è una protesi cosiddetta modulare. Ci sono alcune forme che noi andiamo ad applicare che sono standard, ma quasi sempre cambiano la modalità del cammino, quindi della cinetica articolare di quel ginocchio. Noi il nostro sogno futuro è di poter mettere qualche cosa che non cambi la cinetica articolare del ginocchio e che sia integrata in modo tale per cui si possa fare anche magari in tempi più vicini alla giovane età senza i rischi che oggi le protesi hanno di fallire, avere mobilizzazioni protesiche, alterazioni che poi comportano nuovi interventi spesso problematici per il paziente. Certo. Bene, io la ringrazio moltissimo professor Donati per essere stato con noi, lo ricordo il professor Davide Donati, direttore di Oncologia Ortopedica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Grazie ancora. Siamo arrivati in chiusura e quindi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa e tutto alla prossima. Grazie. Grazie.